musica andiamo se riusciamo vabbè, cerchiamoci le scarpe perchè qua si fanno lavori bello andiamo a vedere un po' sulla collina qua se si riesce a vedere il panorama mamma mia andiamo su questo colle vediamo se abbiamo la sorpresa vedete, stanno anche due panchine da questo lato pure il campo da tennis ehi vabbè, se non ci fossero le piante si vedesse tutta Roma ok ritorniamo giù mamma mia quanto è grosso questo bello stanno fatti questi leoni come l'hanno messo guarda guarda è una bella usciata a balla è bella camminare a piedi nudi nell'erba sinceramente voglio dire la verità io stavo ritornando alla piscina ma non ho trovato l'ingresso per entrare alla piscina mi sono trovato qui altrimenti non lo sapevo questo ingresso bello, guarda questo leone bianco belle delle sculture che sono straordinarie vuolo micio andiamo alla facciamo un po' la che poi questa terrazza pure ve la volevo far vedere approfittiamo adesso è un'altra bella terrazza questa guarda 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 che che mosaici a terra che bello magnifiche sculture di bronzo guarda e questa è la piscina vedete che sta ancora a pallavuta ok allora come devo arrivare lì? non so ora vediamo allora forse possiamo scendere anche da qui non saprei vediamo un po' dove ci condurrà questa strada? vicolo cieco riusciremo a trovare la strada per arrivare dove praticamente da dove siamo usciti ci riusciremo? chi lo sa allora qua ci mettiamo vediamo cosa vi vedi? vediamo i piedi ragazzi ragazzi è ovvio che nel pomeriggio questo banchettino si trasforma in dolcini vari dolcini del dessert tè, caffè bene basta mangiare mamma mia mamma mia mamma mia sempre a mangiare basta ma faccio mmm no ragazzi bellissimo eh San Pietro poterla guardare roma roma non parla stupida stasera allora dopo andremo sul terrazzo e andremo a vedere un po' come si vede proprio tutto il panorama completo voi ci scattiamo qualche bella foto voglio far vedere gli occhi tutta la ragazze questa è la prima colazione non l'ho inquadrata però ci sono due sale tutto buonissimo i tomaggi il cerebrale la bacalda la bacalda la pasta mamma mia che buono guardate quanti bei pomodorini gli occhi tutti i biscottini e poi c'è l'altra sala caffè latte guardate che bella decorazione no e poi vi faccio vedere l'altra sala e per chi è giapponese c'è anche la colazione giapponese è figliata questa cosa bene no e poi i dolci dolci torte cioccolate crostate pane di tutti i tipi e frutta di tutti i tipi insomma insalate pomodorini finotti pomodorini peschi insalatine varie sì ciò 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 in acqua di mineral